La fotografia è un'arte da custodire nei musei, da valorizzare e da restaurare e la Toscana in questo è all'avanguardia per la sperimentazione, ma anche per gli archivi fotografici, come quello dei fratelli Alinari e per i luoghi specializzati nel restauro, come l'Opificio delle Pietredure di Firenze, coinvolti nella giornata di studio organizzata al Cinema della Compagnia di Firenze, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dalla Regione Toscana, sul rapporto tra fotografia e musei e pensata per riunire esperti, conservatori e operatori di rilievo internazionale. Si crea così una bella discussione su un aspetto dell'arte, della produzione artistica che è fondamentale e soprattutto è un tema che può riguardare tante persone, tanti cittadini, perché ormai si fotografa ovunque e comunque. L'evento fiorentino, dodicesima tappa del ciclo di incontri del MIBACT sulla fotografia, è stata anche l'occasione per parlare del piano strategico per la fotografia del Ministero, destinato a diventare un quadro di riferimento nazionale rivolto in più direzioni. Dalla conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, alla creazione contemporanea, ai temi della formazione universitaria e accademica, all'educazione e all'immagine. Quindi ci si vuole dare un piano che possa sostenere tanto il pubblico quanto il privato nella produzione, nella conservazione, nella divulgazione della fotografia. Al centro delle due tavole rotonde della giornata di studio, la conservazione, il restauro della fotografia e le prospettive di valorizzazione dei musei di fotografia. Un patrimonio fragile come i 5 milioni di foto e i 2 milioni e mezzo di lastre fotografiche conservate dalla Fondazione Alinari, da preservare ad esempio in caso di terremoto. Se arrivassero a Firenze tutte le lastre con la Serebro e sarebbe la fine di una storia. Come si ovvia oggi a questo? Con le scanalizzazioni ad altissima definizione, la catalogazione dei metadati è un grande investimento. Da qui la collaborazione con l'Opificio delle Pietre Dure è specializzato, tra le altre cose, proprio nel restauro delle fotografie. Noi già dal 1996 abbiamo un accordo di collaborazione con la Fratella Alinari per sviluppare la ricerca in questo settore. È un tema importante da un punto di vista operativo e da un punto di vista anche di formazione perché ormai il restauro della foto fa parte del programma della nostra scuola per restauratori. E con la stima di 2 miliardi di foto scattate ogni giorno nel mondo, il patrimonio da conservare appare davvero immenso.